Allora, con tutti questi nuovi talenti che sono in giro adesso, internazionali, italiani, con chi ti piacerebbe collaborare, fare qualcosa? Mi piacerebbe, fra tutti, del mondo di contrasto, faccio rock, mi piacerebbe l'hip hop, mi piacerebbe uno in italiano come Fabio Fibre, per esempio nella musica Amy Winehouse, perché per me è la più grande cantante che c'è adesso e da sempre, quindi è chiaro che sarebbe bello.